Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Siamo rimasti assenti settimana scorsa ma questa settimana siamo super super presenti. Siamo un po' incasinati come ormai tanto già sapete. Cerchiamo sempre di far uscire un video a settimana come appunto questa sera, di solito il martedì. Però capite bene che adesso che siamo fermi con i viaggi in questo periodo a volte tra gli impegni vari ci viene un pochino difficile quindi potremmo saltare qualche settimana. Però a parte questo piccolo preambolo sono qua per mostrarvi una grossa grossa novità. Come sapete su questo canale sia vero che raccontiamo dei viaggi principalmente quando viaggiamo e tutta la nostra vita on the road. Però quando siamo fermi vi facciamo vedere come è già successo dei super lavori a questo mezzo e poi vi facciamo vedere anche le novità che per noi appunto sono importanti. Quindi le portiamo sul canale da condividere con voi che comunque siete viaggiatori come noi. Questa cosa l'avete sempre apprezzata e ci fa super piacere dei vostri feedback. Infatti una cosa che vi chiediamo sempre è di commentare sotto i video sia nel bene o nel male. Ci mancherebbe perché comunque i feedback sono sempre bene accetti, i consigli sono sempre bene accetti e quindi non fermatevi. Quindi vi aspettiamo anche a questo video sotto i commenti mi raccomando perché tanti di voi vediamo che guardano i video, non sono iscritti e non commentano. E' vero che non è obbligatorio, ci mancherebbe però per noi è tanto importante capire cosa voi pensate per comunque portare avanti tutta questa community che ormai da anni che ci fate compagnia e ve ne siamo ultra ultra super grati ragazzi. Però qual è la super sorpresa di oggi? Ebbene c'ho un pacchettino qua, molto molto piccolo, di solito siamo abituati ad aprire pacchi un po' più grossi, in questo caso ce l'abbiamo molto molto tascabile. Non fatevi fregare dall'apparenza perché qua dentro comunque c'è un prodottino molto molto interessante. Come ben sapete noi utilizziamo prodotti di EcoFlow già da parecchi anni, mi pare un paio d'anni se non mi ricordo male, ci troviamo super bene e appunto negli scorsi video vi ho anticipato che sarebbero arrivate delle novità sul canale, ve le avrei presentate perché è una novità appunto da qua sul territorio italiano, è già uscita all'estero però qua in Italia esce appunto da quest'oggi. Ebbene stiamo parlando di una nuova super power station o meglio di una linea nuova di EcoFlow ma non ci perdiamo in chiacchiere andiamo a fare subito un unboxing velocissimo per vedere all'interno che cosa è che abbiamo quest'oggi ragazzi. Possiamo vedere subito la quick starter guide quindi il manuale di istruzione, lo mettiamo un secondo da parte, apriamo l'imballo ed eccola qua, super piccolissima. Mettiamo un secondo da parte perché abbiamo anche una scatoletta per quanto riguarda gli accessori. Ebbene già come potete vedere la power station è grossa come la scatoletta sua degli accessori perché all'interno che cos'è che abbiamo di bello? In confezione abbiamo una ricarica per quanto riguarda 12V accendi sigari con la presa XT60 e la ricarica tramite due eventi, il classico appunto cavo. Ma di che power station stiamo parlando? Ebbene EcoFlow ha fatto uscire le nuove River 3, la nuova serie River. Come già sapete EcoFlow negli scorsi anni ha sempre avuto principalmente due linee, la serie River e la serie Delta. In questo caso partiamo con la serie River, piccolo spoiler non so se posso dirlo, spero che i ragazzi di EcoFlow non si arrabbiano. Però qua sul canale preparatevi perché questa è solo l'inizio di tutte le novità che andremo a vedere. Perché ovviamente non è l'unico modello della serie River, è il punto di partenza per poi andare ad ingrandirsi. Ma qua sul canale vedremo anche la serie Delta, non vi preoccupate. Però a parte questa piccola parentesi, non ditela a nessuno, qua abbiamo la nostra piccolina di casa EcoFlow, la più piccola. Infatti appunto come vedete è il punto di partenza della serie River. La serie River 2 c'è stata per anni, ce l'abbiamo appunto anche noi, l'abbiamo già vista sul canale. Se vi siete persi discorsi video inerenti sempre alle Power Station andateli a cercare sul canale che appunto li potete trovare. Dove già come possiamo vedere hanno ridotto le dimensioni in maniera notevole. Calcolate che la sto tenendo su con una mano, non sto neanche facendo troppa fatica, è davvero davvero piccola. Ma in tutta questa piccolezza che cos'è che abbiamo? Hanno cambiato i colori, a parere mio magari una linea un po' più futuristica, passatemi il termine. Poi magari ditemi anche voi che cosa ne pensate. Molto molto pratica e soprattutto molto leggera. Intanto stanno scorrendo le immagini con anche i dettagli appunto di questa piccolina. Poi dopo tanto sotto il video trovate i link che rimandano al sito perché da oggi appunto in anteprima ufficiale è online. Quindi è acquistabile sul sito di EcoFlow e anche su Amazon. Ma aspettate fino alla fine del video perché ho delle sorprese da darvi, da dirvi. E quindi rimanete con me fino alla fine. Nella parte davanti come sempre appunto solito la linea EcoFlow abbiamo nella parte sinistra ingresso per quanto riguarda la corrente 12V per quanto riguarda appunto la ricarica ovviamente selezionabile tramite il pulsantino. Nella parte di destra abbiamo la parte 2 e 20 quindi appunto il suo inverter. E qua davanti diciamo che abbiamo il display di controllo con due prese USB A e una presa USB C. Quindi attenzione attenzione la presa USB C l'hanno portata a 100W cosa non da poco. Andiamola però ad accendere così giustamente vediamo appunto che cos'è che ci va a dire. Già vi dico che la stiamo utilizzando da qualche mese in anteprima quindi appunto la troviamo con il 67% anche perché prima di portarvi video sul canale dei prodotti come sapete a me piace testarli, piace vederli, face provarli, piace utilizzarli per poi dopo raccontarvela voi. Abbiamo un 67% di carica residua, abbiamo 57 ore perché appunto fa il calcolo automatico dell'autonomia residua, abbiamo nella parte in alto input e nella parte in basso output in watt in modo tale che capiamo quanto stiamo caricando oppure quanto stiamo consumando. Il pulsante appunto di accensione come avete visto e poi andando a selezionare i due pulsanti sia destra che sinistra possiamo andare a accendere le varie prese. Ma non è finito qua perché ci spostiamo sul lato dove anche qua hanno fatto un bel po' di upgrade. Infatti hanno adottato il sistema di chiusura per quanto riguarda le prese di alimentazione quindi 220 e presa XT60 per quanto riguarda il nostro solare e infatti appunto andandola a coprire rimangono molto più protette. Abbiamo la solita ventola di estrazione che anche qua hanno cambiato il design. Spostandoci invece sulla parte retrostante hanno praticamente eliminato le prese che adesso ce le abbiamo sul lato, prima erano nella parte posteriore. Troviamo la comoda maniglia e invece spostandoci nell'altra parte troviamo l'altro punto ingresso per quanto riguarda la ventola quindi da una parte va in ingresso e dall'altra parte appunto va in estrazione. Infatti innanzitutto stiamo parlando di una power station praticamente un grosso power bank per quelli di voi che non sono molto pratici del settore. Calcolate che all'interno abbiamo un pacco batterie l'IFEPO4 quindi a litio. La cosa molto molto interessante è che COFLOW adotta una protezione all'interno un guscio della batteria per quanto riguarda appunto gli incendi e soprattutto anche gli agenti atmosferici. Ovviamente non è impermeabile all'immersione però in questo caso agli schizzi e alla polvere sì quindi è un plus in più che sicuramente questa piccolina ha al suo interno. La cosa buona è che stiamo parlando appunto di un 245 watt ora come capacità sua interna e un 300 watt per quanto riguarda l'inverter. Attenzione a chi potrebbe essere utile un prodotto di questo tipo parto col dirvi che comunque è un prodotto entry level quindi sicuramente mi viene da pensare per quelle persone che innanzitutto hanno bisogno di una praticità quindi di una comodità perché pesa solamente 3 chili e mezzo. Come potete vedere la sollevo con una mano quindi è davvero davvero leggera. Si ricarica davvero in meno di un'ora quindi anche quello è molto pratico perché se mi viene da pensare noi appunto adesso abbiamo il discorso del camper e quasi tutti voi che ci state guardando avete anche voi un mezzo un camper perché questo è un canale dedicato ai camper. Però se comunque la volete usare per andare in tenda per andare fuori in macchina caricandola appunto il weekend e portandola fuori è molto molto pratica perché capite bene che la caricate a casa la carichiamo a casa la portiamo fuori e ci tiene tranquillamente una giornata. Ma se non anche di più perché poi dipende che cosa ci colleghiamo ovvio che se ci carichiamo solamente cellulari ci dura anche più di una giornata. Se incominciamo ad attaccarci un phone ovviamente entro le 300 watt e altri magari un computer noi abbiamo il mac carichiamo il mac e lo caricate tot volte alla giornata ovviamente durerà un po' meno. È un entry level come appunto detto poco fa. Però la cosa molto molto pratica è che appunto come ho fatto vedere prima avendo la porta per quanto riguarda il solare la possiamo caricare sia appunto 220 sia solare sia entrambi insieme e noi appunto avendo i pannelli solari che abbiamo già visto sul canale di EcoFlow da 200 watt capite bene che collegandola a questa piccolina si ricaricherà davvero davvero velocemente. Ovviamente come tutti i prodotti di EcoFlow mantiene la sua funzionalità di UPS cosa vuol dire? Vuol dire che se avete attaccato qualsiasi dispositivo a lei computer macchina tra il caffè eccetera e lei automaticamente è collegata alla 220 e dovesse mancare la corrente o sul camper tramite l'inverter oppure in casa che salta il contatore la funzione UPS in meno di 20 millisecondi lei praticamente cosa fa? Switch automaticamente quindi riesce a tenervi acceso il dispositivo senza farvelo spegnere e senza ovviamente danneggiarvelo anche se appunto è sparita la corrente nella vostra abitazione quindi questo sicuramente è un plus. Ma adesso prima di farvi vedere la chicca per quanto riguarda l'applicazione perché l'applicazione di EcoFlow è una bomba ragazzi ve lo dico ma non perché noi le utilizziamo meno ne ho provate altre di applicazioni di altri marchi concorrenti e non concorrenti e secondo me l'applicazione di EcoFlow è la migliore che è stata fatta sul mercato al momento. Però voglio farvi una piccola comparazione proprio con la sua vecchia sorella quindi questa qua è la River 2 che è più o meno l'equivalente della River 3 però già come potete vedere le dimensioni guardate un po abbiamo un tre dita in meno per quanto riguarda l'altezza mettiamola una sopra l'altra così almeno vediamo ve le giro anche per quanto riguarda sul lato sono rimaste più o meno simili la cosa buona è la maniglia perché l'hanno ottimizzata di parecchio. Quindi praticamente è più schiacciata quindi è più bassa la larghezza più o meno ci siamo perché sono simile e hanno cambiato dietro la maniglia oltre che appunto andare a cambiare il colore calcolate che tutte e due sono molto leggere questa leggermente qualcosina di più questa qualcosina di meno e sono molto appunto pratiche entrambe. Vedete quello che vi dicevo poco fa prima avevamo una sola ventola sul retro di estrazione e avevamo la presa xt60 e la presa di alimentazione 220 esposte adesso invece abbiamo appunto due ventole quindi capite bene che il flusso d'aria è secondo me fatto in maniera molto più intelligente quindi da una parte entra da un'altra parte le esce quindi si raffredderà molto molto meglio e poi lo sportellino di apertura per quanto riguarda le prese è protetto cosa che prima non ce l'avevamo. Ma cosa molto anche interessante è che appunto girando nella parte davanti più o meno la situazione è rimasta invariata se non per la presa usb c infatti questa è un usb c 100 watt invece questa non arrivava a 100 watt poi per quanto riguarda le due prese usb a rimangono invariate e anche lo schermino. Ma adesso passiamo all'applicazione quindi appunto sul cellulare o iPhone o Android per andare a vedere come si comporta e soprattutto i dati e intanto faremo anche qualche prova così almeno vediamo un po' lei stessa come lavora insomma. Ok vado a registrare lo schermo del cellulare adesso lo vedete a destra o a sinistra siamo nella schermata appunto dell'applicazione di EcoFlow come potete vedere noi abbiamo un po' di dispositivi adesso al momento abbiamo acceso solo la River 3 Andiamo a cliccare sulla River 3 dove ci segna all'inizio appunto il 67% come possiamo vedere tempo rimanente 2 giorni e 09 in queste condizioni perché si hanno una loro scarica interna un po' come le batterie dei servizi al litio che abbiamo anche sul camper se si lasciano tranquille ferme loro hanno una loro scarica interna cosa normalissima. Andiamo a vedere nella parte in alto tempo rimanente andandoci a cliccare possiamo vedere anche la temperatura della batteria stessa all'interno cosa non da sottovalutare. Ovviamente nella parte di destra possiamo cliccando sul tasto andare a spegnere il dispositivo se lo spegniamo da remoto ovviamente non è riaccendibile da remoto bisogna accenderlo con il pulsante giustamente nella parte sotto è cambiato qualcosina adesso poi dopo vi faccio vedere anche con la River 2 l'accendo il software all'interno cambia rispetto a una rispetto all'altra. Questo secondo me a parer mio è molto più dettagliato infatti oltre a vedere ingresso ed uscita ci fa vedere anche l'alimentazione in tempo reale passando nella parte ingresso andiamo a vedere corrente alternata quindi 220 e solare auto quindi appunto i metodi di ricarica della power station stessa. In uscita andiamo a vedere appunto le prese quindi corrente alternata 2 e 30 corrente continua 12 volt oppure usb a usb c quindi qualsiasi dispositivo noi avremo collegato a queste prese lei ci dirà che cosa ci sta consumando in tempo reale cosa appunto molto molto utile. Passando invece nelle impostazioni possiamo andare a vedere appunto il nome del dispositivo che lo possiamo cambiare limite di carica e di scarica perché lo possiamo impostare lo possiamo settare noi operazione programmata possiamo anche programmare lasciando l'accesa che cosa fagli fare scarica corrente alternata ricarica corrente alternata scarica 12 volt oppure impostazioni di ingresso ed uscita. Questa è una cosa molto molto comoda infatti se noi andiamo su velocità di ricarica possiamo strozzare passatemi il termine la corrente che entra dentro la nostra eco flow quindi andare a ricaricarla magari più lentamente però andando a consumare meno in questo caso magari se fossimo sul camper e la ricaricassi con il nostro inverter quindi con la nostra batteria litio potrei andare a strozzare l'ingresso in modo tale da preservare la batteria del mezzo andando a ricaricare lei un po più lentamente. E poi attenzione attenzione c'è anche una ricarica silenziosa quindi il dispositivo verrà ricaricato a 80 watt per prevenire il rumore della ventola anche questa una funzione a parer mio abbastanza utile. Poi ci sono ovviamente le modalità ricarica in questo caso io lo lascio su automatico così almeno switch a lei in base a quello che gli entra l'ingresso auto 8 ampere perché se voi avete dei mezzi un po datati dove l'alternatore non ricarica molto e quindi avete tanta potenza possiamo anche qua limitare l'ingresso degli ampere tramite la presa accendisigari. Poi abbiamo ovviamente la funzione x boost per andare un po a pompare la nostra power station river 3 quando sta funzionando in modalità inverter ma poi tornando indietro possiamo andare ovviamente ad aggiornare il firmware adesso l'ho già fatto il manuale tente le specifiche eccetera. Infatti adesso come state vedendo le specifiche infatti come vi ho detto prima usb a e possiamo vedere appunto i vari amperaggi usb c presa c di sigari e anche l'ingresso ma la cosa buona di ecoflor rispetto magari a tante sue concorrenti è che tutte le sue power station compresa questa piccolina qua le possiamo andare a collegare tramite il wifi. Infatti se noi andiamo a cliccare su questa nuvoletta in alto ci si apre la sezione wifi e che cosa andiamo a sbloccare praticamente noi la possiamo andare a collegare al nostro wifi in questo caso del veicolo se ce l'abbiamo noi ce l'abbiamo o anche di casa e andare a controllarla da remoto perché praticamente lei è connessa al wifi quindi è connessa alla rete e noi anche se fossimo fuori casa o idem per quanto riguarda il camper fossimo fuori dal camper possiamo accenderla possiamo spegnere le varie prese possiamo vedere se c'è qualsiasi tipo di problema tutto da remoto quindi ad esempio noi sul mezzo vi ricordate che abbiamo tutto victron e possiamo vederlo da remoto tramite il cerbo quindi tramite vrm ecco praticamente collegando lei al nostro router che noi ce l'abbiamo sempre il nostro router wifi del mezzo possiamo vedere oltre al nostro impianto victro anche lei da remoto questo noi l'abbiamo sempre fatto anche con la river 2 con la delta con tutte le power station di ecoflor però è una cosa che loro hanno implementato allora e continuano ad implementare nei nuovi dispositivi della nuova linea adesso appunto come detto ho acceso anche la river 2 per farvi vedere la differenza per quanto riguarda l'applicazione river 2 e river 3 vedete che se vado a cliccare sulla river 2 come cambia il layout sono piccole cose però io me ne sono accorto infatti abbiamo sempre l'ingresso e l'uscita però non abbiamo la linea sotto per quanto riguarda il tempo reale infatti vedete come cambia invece la river 3 l'alimentazione in tempo reale cambia quindi non ci farà vedere il grafico ci farà sempre vedere il sommario quindi il generale però anche questa è una cosa in più che hanno implementato adesso andiamo a metterla sotto carica così utilizziamo la sua alimentazione a breve incominceremo a vedere infatti l'ingresso come possiamo vedere guardate l'alimentazione in temporale quindi il grafico molto carino da vedere e molto utile abbiamo appunto un ingresso che adesso sta salendo pian piano ovviamente più sale e più calano i minuti residui per arrivare appunto alla ricarica totale abbiamo adesso al momento un 259 adesso sta salendo 267 in ingresso perché come possiamo vedere dalle impostazioni noi abbiamo messo come limite massimo 305 watt quindi lei andrà a prelevare fino a un 305 watt massimo dalla rete ovviamente come vi ho detto prima possiamo andare a smorzarlo infatti se io adesso questi 305 lo abbasso non so ad esempio a metto a 208 per esempio vado a selezionare quindi a dargli ok tornando indietro ovviamente come potete vedere lei sull'ingresso adesso sta andando a calare quindi si sta andando ad auto limitare e quindi preleva molta meno corrente dalla rete questo perché adesso ci arriviamo se io fossi in marcia con il mio camper cosa che noi facciamo sempre solitamente questo ve lo dico perché appunto è una cosa che ne facciamo di solito volessimo caricare lei quando siamo in viaggio e quindi sfruttare la ricarica tramite alternatore non andremo a caricare sulla batteria al dito del mezzo perché ovviamente andando a limitare la carica in ingresso noi andiamo sempre a ricaricarla però come possiamo vedere stiamo consumando 223 watt che è l'equivalente di 17 ampere quindi per cui ragazzi se fossimo in viaggio il nostro DC DC ci ricarica 50 ampere come il nostro noi praticamente abbiamo 50 ampere di ingresso 17 in uscita per caricare lei praticamente la stiamo ricaricando non dico a gratis però non stiamo caricando sulla nostra batteria a litio funzione molto comoda che noi adottiamo non dico quasi sempre ma spostandoci noi la utilizziamo quindi sicuramente una cosa da tenere conto adesso giustamente andiamo a fare un'altra prova così vi faccio vedere anche sull'applicazione come funziona andiamo a collegare presso la nostra presa 220 la nostra asciugo per quanto riguarda il phon e vi faccio vedere che anche da applicazione adesso che l'abbiamo collegato mettete caso che noi fossimo fuori dal camper quindi da remoto andiamo su uscita andiamo a cliccare su corrente alternata si selezionerà lei e si andrà ad accendere come vedete la spia della 220 adesso appunto abbiamo il nostro inverter attivo e andiamo a vedere come si comporta la nostra river 3 a questo punto metto il mio phon che attenzione attenzione da 1200 watt lo metto al primo livello vediamo che cosa succede come possiamo vedere lo sto utilizzando ovviamente è una spinta veramente poca però abbiamo un 136 in uscita e l'ingresso abbiamo un 345 se io lo vado a stoppare vediamo che cosa succede ovviamente il nostro 136 andrà a calare e l'ingresso abbiamo appunto un 200 watt ma cosa è successo nello specifico? io l'avevo limitata la mia eco flow in entrata infatti come potete vedere è ancora a 208 quando lei sente dei carichi maggiori attenzione attenzione avendo l'inverter e il caricabatterie interno ha la stessa funzione ad esempio del nostro multi plus quindi ha una funzione di power assist lei sente che non ce la fa tra virgolette perché comunque magari il consumo è maggiore e quindi allora essendo collegata alla rete come in questo caso preleva di più dalla rete per poterci dare la nostra 220 ma comunque continuare a caricare la power station stessa proviamo a aumentare ancora vediamo se salta come potete vedere è saltato perché abbiamo passato la potenza dell'inverter quindi il 300 watt non succede nulla perché tanto appunto sia stoppata senza problemi aspettiamo un attimo spegniamo il nostro dispositivo e ovviamente possiamo andare a riaccendere la nostra presa 220 e come potete vedere la nostra presa 220 è tornata in funzione però ovviamente il nostro dispositivo è spento lo andiamo a riaccendere sempre sull'uno e lei continuerà a farci uscire la 220 senza nessun tipo di problema ovviamente questa funzione di protezione è normale che lei ce l'abbia ci sta ed è giusto ma a troncare l'uscita per non andare a danneggiare la power station stessa e anche l'inverter proviamo a simulare un calo della 220 in ingresso quindi andiamo a staccare la nostra 220 vediamo sull'applicazione cosa succede ma anche sulla power station teoricamente questo non dovrebbe smettere di funzionare infatti sono andato a stopparlo e lui continua a funzionare senza nessun tipo di problema questa ad esempio è la funzione di ups che vi ho spiegato prima che in meno di 20 millisecondi lei switcha e non vi fa perdere il vostro utilizzo del vostro dispositivo e come possiamo vedere adesso abbiamo un'uscita di 151 watt e noi possiamo continuare a utilizzare il nostro dispositivo per asciugarci i capelli tempo rimanente 1 ora e 09 in queste condizioni beh che dire ragazzi ho fatto giusto queste due prove per farvi vedere un po' le funzionalità della nostra river 3 molto molto pratica molto comoda sicuramente queste funzioni di power assist di ups sono funzioni molto molto utili poi magari non è che ogni volta vi succede che vi salta la 220 e quindi avete bisogno di questa funzione però calcolate che in un prodotto entry level perché comunque stiamo sempre parlando di un prodotto entry level non stiamo parlando di un prodotto da 3000 watt o che ti tenga su appunto una centrale elettrica è un prodotto entry level che possono avere tutti in qualsiasi circostanza chi va in tenda chi va in macchina che va in giro weekend chi utilizza il camper come noi infatti quello che voglio tra virgolette consigliarvi visto che comunque siamo qua per consigliare e per mostrarvi questi prodotti voi sapete che io sono sempre sincero al 100% anche perché tanto comunque non ci guadagno assolutissimamente nulla questi sono prodotti che noi testiamo e proviamo ogni volta che utilizziamo prima noi per poi dopo raccontarvele a voi sicuramente questo prodotto a chi serve sicuramente non a molti di voi che hanno una richiesta elevata di corrente infatti sono prodotti che appunto possono salvarvi la giornata le due giornate l'uscita il weekend al campeggio o comunque nel posto da picnic per andarvi a ricaricare i vostri dispositivi sicuramente non sono prodotti almeno questo non è un prodotto che può permettervi di rimanere in libera 2 3 4 5 giorni con un frigore a compressore attaccato io ve lo dico perché so le vostre domande e fate bene a farmele infatti vi aspetto nei commenti sicuramente questo è un prodotto per chi si sta approcciando magari al mondo delle power station per chi ha poche esigenze di corrente sicuramente un prodotto innovativo più che altro perché vabbè hanno rinnovato il design hanno rinnovato ha rinnovato la forma e quindi sicuramente tanti tanti pro vi lascio a voi le vostre decisioni intanto intanto fermi tutti perché vi avevo detto che alla fine di questo video vi avrei dato una sorpresa infatti dal 19 di novembre quindi da oggi fino al 2 di dicembre con EcoFlow raggiungiamo fino a un 50% di sconto per quanto riguarda il Black Friday vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione per quelli di voi che sono interessati sono curiosi vogliono andare a vedere insomma vogliono farsi una cultura andate sul loro sito guardate tutte le specifiche le caratteristiche guardate il prezzo di questa piccolina e soprattutto se appunto avete l'esigenza di andare ad acquistarla cliccate sul link sul link che c'è qua sotto così almeno usufruite degli sconti che ci sono già comunque il prezzo è un prezzo proprio entry level però con gli sconti in più sicuramente è una cosa da non lasciarsi scappare io ragazzi a questo punto vi saluto un video molto molto stuccoso più caldo perché ci tenevo a presentarvi questa in anteprima giustamente rimanete con noi nei prossimi video perché ragazzi sto progettando degli upgrade delle cose sto cercando di capire le tempistiche e tutto il resto quindi sicuramente il mese di dicembre potrebbe essere un mese molto ricco di contenuti e soprattutto stiamo anche progettando dei mini viaggetti ci vediamo nei commenti grazie per essere arrivati fino a qui anche oggi per averci seguito e per averci fatto compagnia ci abbiamo fatto una compagnia reciproca insomma e ci vediamo al prossimo video grazie mille a tutti ragazzi ciao